Sì, sì, giuro, giuro DI LIFE allora oggi è il... 10 ottobre 1945 vedi vi ho fatto iaggi nel senso che bella vedi la notizia è il trucco perchè è particolare questa giornata? no dirlo tu perchè io... stiamo andando ad ascoltare per la prima volta like-dislike masterizzato non andiamo a fare solo quello andiamo a incontrare il corpo di ballo chissà tra quanto tempo lo rivedremo vabbè lasciate subito un bel mi piace e bello cicciotto per iniziare a scaldarci visto che è lì backstage di like-dislike like tanto anche se mettete gli dislike è un like al contrario quindi ci va bene uguale lui si è perso lui si è perso vorrei che possiamo prendere anche l'ascensore o farci la pietra? eh tanto si vi pre... come pietra? esatto ahahahah 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 sono un tempo, sono un'anica ahahahah vero si non ci si taglia per le visual Giorno prima delle riprese Sono in fase, diciamo, sistemazione valigia per quanto riguarda appunto tutti gli outfit Questa è la maglietta NOPE, la felpa NOPE Qui c'è la mia felpa gialla, devo portare appunto la parrucca bianca e anche quella blu Buongiorno, sono le otto e quarto Il programma di oggi, finalmente al contrario di cui parte la ship ci sono degli orari Dalle 10 fino alle 8 di questa sera gireremo ininterrottamente C'è sua cugina oggi come makeup artist, vi lascio ovviamente il suo nick di Instagram qua Perché è veramente bravissima, ma è troppo simpatica Comunque, capelline con i due pomponi, dobbiamo ancora fare colazione Ciao Poco buongiorno Ma che ho passato la cacca? No, meno male Sono piena di roba Qua dietro ci sono loro Bibi Ciao qui Ehi Kavi Siamo qui in diretta dagli spogliatoi Allora, devo guardare qua Allora, partiamo dal presupposto che ho sonno Ciao Kavi Guardalo Lei è la truccatrice È un'esperienza diversa da cui parte la ship Reggitelo che mi devo truccare No, vabbè, 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 finito Ciao Già ti ha fatto il contouring? Mirror Vedete, no? Il problema Ecco Lo sciacquone fantastico è che non c'è uno specchio Quindi adesso Ma non c'è uno specchio in tutto l'intero posto Se io l'avessi saputo, guarda Ehi Kavi Oh mamma, c'è una brucia Che volesse Oh mio Dio La classe di Kavi Ragazzi Chi ce l'ha, ce l'ha Chi non ce l'ha, non ce l'ha Voi ce l'avete? Non vi preoccupate Va benissimo così Sarei tutti belli Ma tutto bene Non vi preoccupate Fai un'altra cosa Non c'è bisogno della mancanza Utilizzate la vostra gratidità Va bene? Va bene Non c'è cosa Ma noi gli stai portando a like La 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 Se mi dico like, cosa ti viene in mente? Barbara d'Urzo che cade a pomeriggio 5 Mmm, non proprio Ci siamo vicini E se mi dicessi dislike? Il Francesco Ma chi era l'allenatore della domanda? No, è Guardate Patti, che tipo Siamo tutti i soci Qui abbiamo finito la prima scena E adesso niente Fuori fa freddissimo Com'è che ne pensi per la prima? Beh, è molto figo E' da rinfresto Ciao Sì Io ovviamente Ma due panini Sì Sì No, raga Non potete capire Ma non puoi capire che Sì Mi sono cercata a dito Sì Sì Blu elettico Che però avete già visto Con cui ho già fatto uno scherzo E voilà Questa è la mia pauvucca Povesa su Amazon Oh, lì vediamo un Anthony Furtivo Mentre questi sono gli spalti E dopo C'è Bibi Poi c'è Federica C'è Andrei C'è Pudignano Pudignano C'è un sacco di gente C'è Francesca La Mega Partist I due momenti sono in arabo Lavoriamo insieme Stiamo decidendo Ancora delle cose per La parte sopra Fa freddo Sono le Momento solo Le quattro E abbiamo girato solo Due scene Perché avete visto appunto Due cambi Ci vorrà ancora Molto molto tempo Abbiamo fatto la scena finale Dove lanciamo tutti i telefoni Oh mio Che mi devo spostare E Hanno montato il palchetto Perché c'è la scena Con le Ginnaste E L'imperatore Che ne pensi finora? Sono molto soddisfatto Del girato Ah vero Sono molto soddisfatto Del girato Però dobbiamo ancora Finire tutto E domani abbiamo altre cose Che io ho scoperto Solo prima Guardate che carino Il mio amore Che mi ha portato I macarons Cioccolato Ciao Sono arrivato adesso Sì Stiamo procedendo Al trucco Sempre da parte di Francesca Quella è Mattia Che fa Quella della Lolo Molto felice Di essere truccato Di essere truccato Da pagliaccio Like Comunque Io direi che Poi stiamo oggi Da test for music Andando con questa palestra Ti faccio Ti vado di là Faccio Non ti ammette Like Dislike Da ziii Di pagliaccio Della classe Fa 200.000 like Pagliaccio Ti metti like Da solo Dislike Pagami Pagami 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 9 10 11 11 12 13 14 15 15 16 16 17 17 18 Si possa mangiare ma Sapete sono le 7 esatte E siamo ancora in alto mare Pace a bbbi Allora Tagliamo Spagna Spagna La pinta La pinta Spagna Spagna 2 1 Via Se sono in sovrapeso mi fai mangiare dislike Sto Sbaccion 1 Se sono in sovrappeso mi fai mangiare dislike Mi sono tolta la dita perché mi mettere like Qua Sì, con il pollice in giù Ok? No, ma allora io devo portare io Allora, io arrivo Scendo Ti porto un like Faccio così Tu mi guardi E fai Loricini e mi metti dislike Una denuncia vorrei ammettere like Porto regali senza te tu e mi metti dislike Eh Eh Questo è like Voglio dirti Datemi dirti Ora O come dite voi BISLIKE Regalmente così vai Allora Ale Di questa prima giornata che dici? Fantastico Cioè, la prima delle due, insomma. Io mi sono divertita. Ah, a parte che ho ancora queste cose appiccicate in testa. Bellissima. Io sono soddisfattissima. Dove sei? Bellissima, bellissima. Ecco. Domani mattina ci aspetta un'altra scene. Secondo giorno di riprese. Green screen. Vedete le magie? Ah, ah. Ah, molto bene, ma tu le hai portate quelle nere? È stritto, capito? No. Eh, vengono tagliate. Volevo farvi anche vedere tutto il backstage del backstage. Cioè, io ho portato tutti i trucchi. Oggi ho truccato alcune ballerine. E mi sono truccata anch'io. Chi è? Sono? No, lì non sono le 5 e 5. Ehi! Ehi! Chi è le sonere, veramente? Sono le 11 e 14. Un'ora e un quarto di ritardo. Oh, sei qui bravo. Bello o no? Ma bravo sì. Ammazza! Mi sai! Devo notare qui? Cosa? Che è molto stanco? Oggi ho detto qualcosa. Parli senza parlare. Oggi i miei capelli sono meglio del solito. Strano. Cosa fate? Ah, gli do una truccata. Se lui si stesse fermano come se stessi sulla tazza del bate. Siamo tutti sull'assorto. Siamo tutti sull'assorto. Ah, ma le cover non servono, ma non serve alla macchina. Dietro non vi scudete. La formazione? Aerea. La formazione? Così è like. Pierpaolo, così è like. Così è dislike. E so sbagliato. E so sbagliato. E so sbagliato. E so sbagliato. Entonite. Portami, cazzate. Scena del confessionale Cioè lo devo fare Però l'ho cultimato Ho comprato questa l'altro giorno Veramente bellissima Così la metto anche al di fuori dal video Perché mi piace All'inizio questi Sono di un colore diverso fatto apposta Dovevano essere Ma chi è? Che chiama? Scusate Però la gente non li ha tenuti così Ti chiamo e non rispondi Rispondo dislike Mi chiami e non rispondo Rispondo like Esci dal prolegge Com'era? È bene Mi hanno beccato nell'armadio Ho capito? Ti confesso Ho beccato nell'armadio Tu rimani qua Mila e c'è tesi mazzini Cecilia nell'armadio Fai dislike Metti il re che ti confessi Emergenza like Metti il re che ti confessi Emergenza like Questo è una cosa che Mi vicende il video Nel remoto Suore chiuse Magnitudo di like Ti compri like Dislike Ragazzi abbiamo finito le riprese E rating account Che l'abbiamo fatta Dai Copri aquela avamo finito LÁBIA 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 È LIFE 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 Grazie a tutti